arcisate ottobre 2020 europeo e dpa 500 iscritti protagonisti tiratori del team beretta che è main sponsor dell'evento armi e tiro e sul campo per provare le beretta 92 x full size e centurion che vogliono conquistare uno storico titolo continentale bieco silvestri è il responsabile sportivo della società defense 360 di arcisate che insiste ovviamente su questo campo in provincia di varese arcisate molto molto bello con numerosissimi stage qui si svolgerà un europeo che ha qualcosa di diciamo di storico possiamo definirlo non solo per il fatto che in italia no perché è la prima gara veramente strutturata come tale di livello 4 i nostri amici americani direbbero di tier 4 fuori dagli stati uniti ce n'è stata una sola di tier 4 in passato in un paese del nord europa ma ha avuto uno scarsissimo riscontro numerico infatti i partecipanti noi ad oggi abbiamo 474 iscritti abbiamo gli ultimi 20 posti che probabilmente andranno venduti tra qui e l'inizio della gara ecco siamo ovviamente a diciamo inizio di luglio quindi c'è ancora tempo perché l'europeo e dpa si svolge all'inizio di ottobre quindi 2 3 4 di ottobre quindi sarà diciamo si svilupperà su 3 giorni di gara 3 giorni di gara e uno dedicato allo staff uno staff anche piuttosto nutrito quindi oltre 54 persone di staff di cui un 40 per cento internazionale nel senso che verranno tra le nazioni più vicine alla nostra ma avremo la presenza anche di due arbitri della russia lontanissimi di super appassionati saranno presenti comunque quasi tutte le nazioni europee ad eccezione della spagna della francia e della germania per il resto ci sarà una rappresentativa quasi globale il tiro ovviamente il tiro di dpa è molto localizzato ad est diciamo della dell'europa quindi serbia tutti i presenti mondavia ucraina ex diciamo iugoslavia tutte c'è comunque una ricca partecipazione anche italiana evidentemente sì sì le quote noi abbiamo un software gestionale che ci permette di individuare la provenienza un po tutti i dati i tiratori che noi chiamiamo international sono 120 rispetto ai 470 che nel numero precedente un'ottima partecipazione diciamo anche per questo inedita in europa assolutamente una cosa che stiamo qui che facciamo tutti il tifo per questo europeo grazie importante dire che naturalmente c'è anche una una forte partecipazione non solo di armi e tiro ma anche di una serie di sponsor si in primis beretta main sponsor dell'evento parteciperà con tutto il suo team il team beretta al completo i suoi tiratori di punta sono tutti iscritti all'europeo hanno sono stati generosi e daranno in omaggio ad estrazione a sorte tra i partecipanti tante armi hanno preparato la borsa gara la busta gara cioè daranno a 500 persone un cappellino un gadget dell'azienda si sono veramente espressi favorevolmente con noi abbiamo abbiamo visto perché sperimentato non si può dire visto qualche stage ma sono già tutti pronti 14 stage 13 più bravissimo 13 più una dice la dizione corretta sono 14 esercizi però uno è destinato al controllo delle armi quindi non si spara ma bisogna sottoporsi esatto esattamente l'esercizio crono bisogna sottoporsi al test di qualità delle munizioni che hai usato in gara e l'abbigliamento e l'attrezzatura che hai che sia noi diciamo legal ecco diciamo qualcosa magari delle categorie sì i dpa un po diciamo un po più generosa nella diversificazione delle armi da tiro si può partecipare dalle piccole carabine dai fucili col calibro da carabina famosa pcc a tutte le pistole semiautomatiche fino al calibro 7 sotto il calibro 7 non si può non si possono utilizzare avremo le classiche 45 per la cdp avremo le armi di serie quelle che noi chiamiamo stock le armi con profondamente modificate che sono le enhanced le compatte quelle che si usano diciamo undercover che si usano per il tiro difensivo esattamente e i revolver non mancheranno sicuramente abbiamo degli appassionati di revolver che è uno spettacolo vedere questo gesto di ricarica veramente affascinante quindi diciamo sarà uno spettacolo la gara ma ovviamente si potrà anche vedere da vicino cosa succede quindi anche perché lo spazio per il parcheggio è enorme si si abbiamo spazio per tutto quindi c'è questo spazio può accogliere circa 250 auto quindi se ogni auto in più diciamo che noi abbiamo in programma un evento un po particolare che coinvolgerà tutti voi che siete dietro quello schermo e di cui vi diremo più avanti qualche informazione in più per partecipare e quindi anche per poi venire qui a vedere e magari anche a confrontarsi con i campioni assolutamente giusto per una par condizio corretto citare dei vari sponsor che sono tanfoglio in ordine di generosità c'è l'azienda bignami ci sono alcune armerie diciamo locali c'è stefano frigerio di lecco che ci sostiene sempre da tanto tempo adesso c'è ci sarà la nuova jäger ci sono dei produttori locali di fondine di coltelli e diciamo il tiro i dpa è in crescita assolutamente questa manifestazione servirà probabilmente anche per farlo conoscere meglio per farlo crescere ancora meglio c'è un ricco parterre assoluta di sponsor ci siamo noi e naturalmente ci sarà questo evento che organizziamo e sul quale a breve vi daremo informazioni ci saremo tutti anche noi della defensa saremo tutti con voi con armettito a sostenervi grazie e in bocca al lupo grazie grazie a tutti grazie